Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul mercato cinese. Io sono Tina e oggi esaminiamo una piattaforma cinese dall'alto potenziale per vendere in Cina, ovvero Touqiao, un'app che in Italia si conosce poco per nulla. Ma prima di adentrarci nel merito, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanella per non perdere i prossimi video sul mercato cinese. Cos'è Touqiao? Touqiao è una piattaforma ibrida creata da ByteDance nel 2012 che unisce le funzioni di una tipica piattaforma di news con quelle di un social network. In sostanza si tratta di un aggregatore di news che in base ai gusti e alle preferenze di ogni singolo utente è in grado di proporre una selezione di notizie su misura. Detta così potrebbe sembrare forse un po' il fratello minore di Facebook, ma Touqiao applica un severo filtro sulle fake news, oltre che a proporre solamente le news strettamente attinenti alle preferenze di ogni singolo utente. Secondo i dati di Statista, nel 2021 Touqiao contava oltre 332 milioni di utenti attivi mensili, circa il 60% dei suoi fruitori sono uomini e l'85% a un'età tra i 18 e i 30 anni. Il pubblico di Touqiao è altamente istruito e proviene soprattutto da città di prima e seconda fascia. Le top 5 categorie su Touqiao sono la finanza, le schizze lavorative, genitorialità, salute e storia cinese. In un'epoca in cui i video sono il contenuto fondamentale, anche Touqiao ha lanciato la sua versione video che nel 2017 è diventato Shikua Shepin, un'app separata con un logo diverso da cui si può accedere anche da Touqiao. Quello che contraddistingue Touqiao da altri social popolari è la sua altissima targetizzazione. Infatti essendo data come piattaforma di news e informazione, l'utilizzo che ne fanno gli utenti è più attivo, ovvero chi entra in Touqiao entra per uno specifico motivo, per informarsi in generale o per cercare una specifica informazione. Quindi la maggior parte delle ricerche fatte è da considerarsi altamente specifica e precisa in un'ottica di profilazione, a differenza di altri social dove invece l'input viene dall'app stessa e l'utente si ritrova a fruire di contenuti in maniera più passiva e casuale. Con così tanti dati specifici sulle preferenze a disposizione forniti da milioni e milioni di utenti attivi giornalieri, non sorprende che Touqiao sia in grado di fornire contenuti altamente targetizzati. L'algoritmo è poi in grado di studiare le preferenze e proporre anche argomenti correlati alla ricerca attiva. Quindi per esempio se si cerca spesso automobili, non compariranno solo macchine, ma anche decorazioni interne per macchine o come eliminare l'odore di chimico dalle macchine nuove per esempio. Inoltre un aspetto da non sottovalutare sono le partnership che Touqiao ha stretto nel tempo, rendendolo per esempio perfettamente integrabile con WeChat. Su Touqiao è possibile fare essenzialmente tre tipi di azioni marketing distinte. Innanzitutto advertising ovviamente, data l'alta profilazione di Touqiao. Le ad possono essere open screen, quindi a tutto schermo, oppure le classiche inserzioni meno moleste, più fluide all'interno della navigazione dell'utente, che compaiono tra una news e l'altra. Un'ultima opzione sono quelle che appaiono alla fine di un contenuto, sia esso un articolo o un video. Un secondo modo di fare marketing su Touqiao è quello ormai classico, tra virgolette, di content marketing, quindi la creazione di contenuti attraverso un proprio brand account di Touqiao, oppure in collaborazione con KUL o creators di Touqiao che creano quindi contenuti ad hoc per il brand. Infine un brand può anche collaborare direttamente con Touqiao per delle campagne di breve termine. Per esempio nel 2019 la Marvel aveva collaborato con la piattaforma per promuovere il film Avengers 4 in uscita, mettendo in piedi un'enorme campagna sia online che offline. Touqiao aveva organizzato delle discussioni a tema Marvel e disseminato per Pechino mille carte con degli indizi su quello che sarebbe successo nel film. I fan degli Avengers sono stati invitati a cercarle e hanno ricevuto dei regali ad un'esibizione sensoriale. Touqiao aveva anche lanciato una pagina Trivial Challenge, sempre a tema Avengers, e ovviamente creato l'hashtag Avengers 4, che aveva raggiunto oltre 2 miliardi di visualizzazioni e ha aperto 200.000 discussioni. Ricapitolando, Touqiao è una piattaforma dalle grandi potenzialità per vendere in Cina, specialmente ad un audience di uomini altamente istruiti e dall'alto potere di acquisto, interessati a finanza, skills lavorative, genitorialità, educazione, salute, scienza, tecnologia e molto altro. Data la sua alta personalizzazione resa possibile dal grande traffico delle preferenze espresse attivamente degli utenti e da un algoritmo che propone anche correlazione ai topic ricercati, Touqiao si presta molto bene a diversi tipi di azioni marketing e quindi se ben contestualizzato all'interno di una strategia di più ampio respiro con obiettivi chiari, Touqiao può essere una piattaforma con un altissimo ROI anche se non sia la Marvel. Vi lascio alcuni approfondimenti nel box in descrizione. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciateci un like di supporto e noi ci vediamo al prossimo video. Zzece!